Menon Sacchetti, allenatore della Dinamo Banco di Sardegna, la presentazione della squadra per la stagione 2012-2013. Ecco com'è andato il mercato, la campagna acquisti, è soddisfatto o aspetta ancora qualcos'altro? No, no, siamo soddisfatti perché l'importante è che abbiamo tenuto un bello zoccolo duro che era fatto dai giocatori italiani, dai due diner e Isli. Questa qui è stata una cosa importante perché crediamo molto nel gruppo, abbiamo inserito tre giocatori nuovi, due li abbiamo già visti, l'altro aspettiamo che finisca con la nazionale e perciò, niente, la prossima settimana iniziamo a partire con le partite e vediamo un po'. Ecco com'è allenare un gruppo così forte dopo l'espla degli ultimi due anni, in particolare dell'ultimo, pur non essendo tra i favoriti? Secondo lei è un vantaggio? Beh, sicuramente è un vantaggio perché il gruppo ci aiuta, specialmente nelle situazioni difficili, quando le cose non vanno, se il gruppo sta bene assieme, è sicuramente qualcosa di più. Abbiamo fatto in questi tre anni passati sempre un passettino in avanti, adesso sappiamo che il prossimo passo sarà molto difficile, però abbiamo sempre mantenuto questa umiltà, con questa voglia sempre di crescere, ci ha portato dove siamo arrivati l'anno scorso, ogni campionato è una cosa a parte, però se rimaniamo con i piedi per terra e lavoriamo in un modo normale come abbiamo fatto, dando niente per acquisito, potremmo cercare sicuramente a fare belle cose. Quanto conta il fattore Sassari e Sardegna in tutti questi successi della Dinamo? No, beh, questo conta molto perché è sicuramente una piazza in cui i ragazzi sanno di avere qualcosa di più, da un pubblico molto caldo, ma anche molto sportivo, e questo qui è stato detto anche dalle altre squadre che vengono, però è un po' una coperta di linea, se abbiamo dimostrato di poter fare bene anche fuori casa, ma sicuramente il valore di Sassari è molto importante. Una nuova stagione per la Dinamo Banco di Sardegna, ma sempre un punto di forza, come ci si sente in questo caso, Trevis Diner? Ok, quindi è una nuova stagione, è iniziato forte, come ti senti? Mi sento bene, credo che il team mi senti bene, abbiamo un po' di lavoro da fare, è ancora molto presto, ma mi sento confidato, mi piace il nostro team, ma come ho detto, è ancora molto presto. Nel frattempo la famiglia Diner è aumentata, sia con il cugino, appunto l'altro Diner che è arrivato l'anno scorso, ma soprattutto un figlio, ecco, si riuscirà a festeggiare un campionato grandioso per la Dinamo. Quindi la tua famiglia è diventata, non solo tu, ma anche il tuo cusino, ha molti nuovi bambini, e quindi è qualcosa di più speciale per questa settimana. Sì, è stata una buona esperienza, avere una figlia, si riuscirà molto velocemente, quindi sono felice di essere un padre, sono felice di essere qui con me per questa settimana, quindi come hai detto, è molto più speciale avere una piccola figlia. Sì, il fatto che ho una figlia adesso renderà la stagione molto speciale, e mi fa tanto piacere che sono tutti i due qui con me. È una cosa bellissima averla, non ti rendi conto di quanto crescono velocemente. Grazie mille. Grazie. Dinamo, Banco della Sardegna, espressione di Sassari, espressione di quest'isola. Quanto è difficile il presidente Stefano Sarda, in un momento di crisi, di sostenere una squadra come questa? Ah, guarda, è difficile perché non è facile, però la verità è che oggi ci sono presenti tantissime persone perché sono tantissime quelle che aiutano a sostenere il progetto, quindi la difficoltà esiste, ma siamo fiduciosi. E come vi preparate a questa nuova stagione? Gli sponsor hanno risposto, sono tutti qua, oggi è una grande festa, ora devono arrivare i risultati. Sì, non sarà facile soprattutto ripetere quello che è stato l'anno in corso perché è stata una stagione fantastica che ha dato risultati al di sopra delle aspettative, però la squadra l'abbiamo costruita con l'aspettativa di fare un bel campionato, puntare al mantenimento della categoria perché di salvezza non vogliamo più parlare, però il concetto è più o meno lo stesso e poi apriremo il castito di sogni. State puntando molto sul settore giovanile, così? Assolutamente, il polmone verde della società non può essere altrimenti, una società che non crede nel settore giovanile è una società che ha il fiato corto, per cui noi ci crediamo, ci crediamo tanto e ci stiamo anche investendo di conseguenza. Un altro anno la presentazione ad Alghero, speriamo che porti fortuna anche per il 2012-2013. Ma sì, la Dinamo è la Dinamo di tutta la Sardegna, Alghero è una seconda casa per noi, ci torniamo sempre volentieri, abbiamo fatto l'inaugurazione della palestra nuova, abbiamo fatto una parte anche di allenamenti, insomma, in casa nostra. Melissa, state al secondo anno la presentazione della Dinamo, hai portato fortuna? Speriamo, però speriamo di continuare anche questa fortuna. Ti vedremo quest'anno sugli spalti o ti farai solo Milan? No, no, beh, magari, insomma, se mi invitano vengo a vedere anche la Dinamo, però vabbè, Milano è la mia squadra del cuore, quindi là ci sarò sempre. Ti aspettiamo allora a Sassari, va bene, per la prossima stagione? Eh, lo spero, volentieri. Ciao.